me l'avevate chiesto ho rispolverato l'assistente eccolo qua alle mie spalle cosa è successo oggi nicolas di importante oggi finalmente si è giocato a calcio la bundesliga la bundesliga e tu hai visto la partita dormund schark 04 finita 4 a 0 per il dormund chi ha segnato il primo gol holland holland adesso non si sa bene come come si pronuncia e va bene hai passato l'esame perfetto passato l'esame e si si è giocato a calcio sembra strano ma si è giocato a calcio perché si continuava a dire è in germania ricominciano e ibrahimovic ha detto loro dicono loro fanno direi che ultimamente ibrahimovic lancia dei post molto teneri molto leggeri comunque all'idea di questo ci aspettavamo o aspettavamo con tanta ansia questa questo ritorno in uno dei principali campionati europei ecco vieni qua e questo ritorno c'è stato abbiamo visto anche i gol delle altre partite abbiamo visto insomma che si è giocata regolarmente questa giornata di campionato domani sarà la volta del bayern di monaco secondo te nicolas come hanno giocato cioè nel senso hai notato delle differenze rispetto a quando giocavano prima del dormondo nel modo di giocare cioè avevano paura dei contrasti avevano paura delle mische di calcio d'angolo avevano paura di di così di toccarsi eccetera o no di toccarsi no no avevano paura ti sono sembrate delle partite normalissime sì era un po' diverso quando facevano gol perché non si abbracciavano sì era solo quello però anche forse la l'azione tutto di prima al gol di holland il primo è molto bella direi sì quindi questo per dire che hanno giocato non con tanti pensieri diversi dal calcio per la testa secondo te sì quindi hanno hai visto una partita vera insomma ti è piaciuta ti sei divertito sì mi è piaciuta poi a un certo punto ti sei anche ricordato che un paio di anni fa se non sbaglio l'anno scorso non ricordo bene il dormo vinceva 4 a 0 quello che è anche 0 4 ma poi come era finita 4 a 4 4 ma stavolta non è andata così anche se sul 4 a 0 un pochino ci ho pesato questo per dirvi ragazzi che non dico che il calcio sia una medicina ma voglio dire che oggi si è riscoperta l'importanza di deviare un po' la testa da certi pensieri anche perché questi pensieri quantomeno i numeri ci dicono che si siano un po' assottigliati o piuttosto in maniera piuttosto consistente direi non solo assottigliati restano perché quegli spalti vuoti che c'erano lì sono lì a ricordarci a ricordarci che non è un campionato normale che non è un calcio del tutto normale ma il fatto che i giocatori siano scesi in campo non solo nella partita tra Borussia Dortmund e Calde 0 4 ma anche nelle altre giocandosela apertamente ha significato tanto secondo il mio modestissimo parere ha significato tanto ha significato il fatto che la voglia di respirare di vivere di tornare ad essere se stessi può prevalere quantomeno in quei momenti in quelle circostanze su paura ansie ed altri pensieri diversi che l'uomo normale giustamente può avere in un periodo come questo perché una volta che a fine di giocare i calciatori tornano ad essere uomini normali quindi probabilmente hanno ripensato un po' tutto quello che hanno fatto quest'oggi ma hanno riprovato la soddisfazione di sentirsi in un certo senso liberi o liberati da certe situazioni e il potere che ha avuto oggi il calcio è stato duplice un potere attuale ossia aver distratto anche la gente riappassionato perché eravamo stufi di vedere repliche di vecchie partite la Bundesliga tra oggi e domani farà registrare degli ascolti pazzeschi in tutto il mondo in tutto il mondo perché c'è voglia e poi può avere un importante effetto come dire traino sia pure con razionalità e non solo di entusiasmo quindi non solo di pancia ma anche razionale un effetto traino sugli altri campionati che sono lì a decidere perché adesso ancora si è entrato in una fase di indecisione per quanto riguarda il nostro campionato con Conte che ha detto che Spadafuora sa come operare però al momento non ci sono ancora le condizioni con protocolli che vengono scritti riscritti rifatti accettati e poi e poi rifiutati non se ne esce più mi veniva anche da pensare forse forse a un certo rammarico che può aver provato la Francia o possono aver provato gli appassionati francesi nel constatare che mentre in Germania si gioca mentre nelle altre nazioni negli altri principali campionati europei comunque ci si sta ponendo la questione e c'è comunque un velo di ottimismo sul fatto di riprendere a giocare là hanno deciso di chiudere il campionato di assegnarlo al Paris Saint Germain e comunque ci sono pendenti ricorsi per cui non è ancora detta l'ultima parola però questo volevo con questo mio discorso volevo far capire l'importanza che ha in certi casi come dire prendersi anche dei rischi perché indubbiamente la Germania si è presa dei rischi che verranno tra l'altro monitorati e valutati di giorno in giorno di giorno in giorno ok ma si è buttata e ci voleva qualcuno che facesse un po' da apripista in questa situazione io adesso non voglio dire che bisogna sicuramente giocare in maniera scriteriata senza tenere conto di determinate situazioni determinate misure da prendere ci mancherebbe altro però io spero che questo sia stata una grossa iniezione di fiducia ha detto questo che giocatore è oland o quello che è cioè che tipo c'è che giocatore è forte ti piace forte sai che è il 41esimo gol che ha fatto in stagione questo infatti spero che lo prenda in Barcellona hai capito sì perché stiamo parlando con un tifoso blaugrana alzati pure il pigiama pure il pigiama nel Barcellona hai capito pure il pigiama nel Barcellona sta a sperare se lei che il Barcellona deve a forza comprarli tutti tu pensa che Haaland adesso è lì al Borussia Dortmund come tappa di passaggio l'ho detto lui l'ho detto anche Raiola insomma io penso che quest'anno lo faccia lì l'anno prossimo lo faccia ancora lì e poi sempre questi permettendo perché data la situazione che stiamo vivendo insomma bisogna anche capire come si muoverà il mercato tra uno o due anni ma è destinato a lasciare il Borussia Dortmund io credo che sia un giocatore eccezionale perché ha superato una prova importantissima quest'oggi aveva lasciato tutti con l'abitudine al gol perché non era una partita in cui giocava Haaland se Haaland non segnava ok beh dopo due mesi di stop di un campionato di un'intera Bundesliga in una squadra che lui ha raggiunto solo a gennaio quindi nemmeno il tempo di ambientarsi che ha dovuto fermarsi il campionato lui arriva si presente fa un gol e due assist ha fatto due assist anche sì sì uno su un gol di Hazard sul secondo ha fatto assist lui anche il quarto e forse il quarto comunque due assist e un gol c'è un giocatore della sua età che si ripresenta così in un ambiente tutto sommato nuovo beh insomma ragazzi io penso che sia veramente un predestinato tra l'altro c'ha vabbè due robie così sotto ecco due gioielli ecco diciamo due gioielli molto preziosi sotto di una certa consistenza nel modo di fare nel modo di comportarsi eccetera poi mi si dirà perché la Juve non l'ha preso quando poteva prenderlo quando si diceva potesse prenderlo perché entrano un sacco di valutazioni perché ci sono le valutazioni tecniche perché probabilmente con Cristiano Ronaldo qui non avrebbe avuto molto spazio per giocare da subito perché ha un procuratore che studia molto bene le situazioni molto bene le situazioni e capisce e stabilisce quando è il momento di fare veramente il salto di qualità posto che lui comunque l'ha fatto da Salisburgo al al Borussia ma non è ancora arrivato allo step superiore quindi ogni cosa a suo tempo e poi vedremo come finirà oggi di Juve non c'è molto anzi direi che praticamente non c'è nulla se non il fatto che siamo a due giorni da quello che potrebbe essere il primo allenamento di Cristiano Ronaldo perché è arrivato il lunedì 4 di maggio 4 7 11 e 7 18 lunedì 18 ancora non ho capito se ci saranno gli allenamenti collettivi comunque Cristiano Ronaldo dovrebbe presentarsi al mattino al J Medical per fare gli esami controlli e al pomeriggio o il mattino dopo per fare il primo allenamento alla continassa lui manca dalla continassa dal 7 di marzo era la vigilia di Juventus perché poi dopo lui il 9 è partito immediatamente per fare il viaggio a Madera e stare a Madera quindi allenamenti alla continassa se saranno possibili i collettivi li farà collettivi se non saranno possibili i collettivi li farà individuali e quindi niente partitelle e quindi niente ispettori federali niente ispettori federali che hanno già fatto un loro giretto da un'altra parte però sembra tutto tranquillo ci auguriamo che sia stato tutto tranquillo ce lo auguriamo fortemente ho parlato più di calcio tedesco poi avevo lui di piango insomma è stato un filmato poi sono un po' anomalo ma avevo voglia di parlare di calcio di calcio giocato e la Bundesliga mi ha dato questo spunto ciao ragazzi vi volevo ricordare colui che cura la messa in rete dei miei video Matteo Zorloni Zorata ha il suo profilo su Instagram ma da pochi giorni anche su YouTube Zorata canale YouTube specializzato in Formula 1 lui dice beh ma è un canale di nicchia beh mica tanto va a vedere che nicchie ci sono ai gran premi e poi insomma riparliamone se è una sponica quindi seguite Zorata YouTube appassionati di Formula 1 e anche noi iscrivetevi al canale ciao ragazzi ciao ciao sempre con il pigiama del Barcellona ciao mi sembra un emotico sai l'emotico quando fa così presente quello che fa così poi c'è quello che fa così c'è quello che piange no quello lì non c'è ciao 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 ciao